Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami ma come potete vedere non siamo a Miami in questo momento. Abbiamo preso il treno direzione Roma, Tiburtina e l'abbiamo quasi perso ed è stata tutta colpa mia. Cioè io che dovrei sapere come si prendono i mezzi di trasporto, no? Sono esperta di come si prendono gli aerei ma non tanto come si prendono i treni. Praticamente pensavo che il treno partisse alle 13.20 invece partiva alle 13.10. Siamo arrivati con largo anticipo alla stazione centrale di Milano e poi ce lo siamo presa molto comoda in che non abbiamo sbagliato sia binario. Ho visto che partiva un treno Italo invece che perciò l'ho stato... mi sa che c'è qualche problema. Praticamente avevo sbagliato l'orario. Per fortuna il treno nostro partiva dal binario accanto e quindi abbiamo corso come dei matti. Siamo saliti al volo sulla carrozza che non era manco la nostra ovviamente. Quindi ce l'abbiamo fatta. Adesso siamo sul treno, Ryan sta costruendo un Lego, vero? Sala mangia. Io mi sono portata il computer perché devo fare un training per il lavoro. Sala si sta mettendo i trucchi e sta cercando di mettere anche a Ryan. Guarda i miei schicchi. Stai la guida al passeggino e Ryan è un pigrone. Si fa partire da Daddy sulla valigia. Siamo arrivati in centro a Roma. Ci abbiamo messo circa un'ora a trovare il parcheggio. Che novità, io ho preso in gioia pensando così dopo trovo parcheggio più facilmente. Ma vedo che la gente si parcheggia anche dove non si deve parcheggiare. E abbiamo beccato la maratona di Roma. Quindi adesso vi facciamo vedere. Mi sa che questa è la fine perché c'è gente che cammina e si vede che è già stremata. Manco farla apposta. Siamo arrivati forse alla fine della maratona perché c'è solo spazzature in giro. Abbiamo trovato uno stand all'aeronautica. Vediamo cosa ci danno. Giornata grigia. Com'è che c'era più sole a Milano che a Roma? Però non fa tanto freddo, vero? E qua continua ad arrivare gente dalla maratona. Fammi vedere un pa' Cosa ti hanno regalato i signori dell'aeronautica? A Stella e a Baba. Cento anni dell'aeronautica. Wow. E a Stella cosa hanno regalato? Fammi vedere. A Stella e a Baba e a Stella ci vogliono regalare un paio. Guardate che bello. Questo me lo metto io sulla mia borsa. Abbiamo preso il tiramisù. Tiramigù. Tiramigù lo chiamiamo noi. È un ragù. Musica dell'aeronautica. Musica dell'aeronautica. Musica dell'aeronautica. Corri, corri da dadi Stella, sei stanca già, pigrona. Siamo a Villa Adriana, guardate che spettacolo. Collana di fiori, cerchietto di fiori per questa principessa. Sta Daddy con questo? No, non vi piace? Raya, fammi vedere Raya. Ah, non è vero? No, è finto questo cocodrilo, pensavo fosse vero. No? No, non è vero? Bella spinge Raya, che secondo me adesso lo lascia andare e ci schiantiamo. Cosa fa Raya nel passeggino? Che sei gigante! Siamo nella gelatoria più buona di Roma. I bambini artisti ci stanno facendo un gelato. Questo chi sei? Tu amore? Sì. Col gelato in mano. I love gelato. Sterla! E la nostra breve vacanza romana si conclude qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti!